Bentrovati amici! Iniziamo oggi con un gilettino in bicicletta e andiamo a vedere se troviamo qualche agricolo che lavora. Ora la terra comincia un po' a asciugarsi e qualche cosa si comincia a vedere qui nella campagna è un po' a asciugarsi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, signor Giovanni. Più che lei, che io so che sono... Sono grazzilino. Salute i miei amici. Ciao, ciao, qui il sole è andato via. Il sole è andato via e ho visto là che veniva giù qualche goccia. Grazie a tutti. 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 Amici, qui i lavori in campagna proseguono. Sono i primi lavori stagionali. Il nostro video termina qui. Trovarvi è sempre un grandissimo piacere. e noi, amici, ci sentiamo alla prossima, ciao, 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 ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.